Insieme a John Novello, un tastirista, perché è un trio, organo Ammon, alla Gioide Francesco e alla batteria, il grande Dennis Chambers. Pensate che sezione ritmica Dennis Chambers esce, ricordiamo Dennis Chambers con gli Special FX e ultimamente tra l'altro con John McLaughlin, ma tanti, tanti ne ha fatti, Dennis Chambers, il dopo Cobb, a me lo considero, uno dei più grandi batteristi esistenti. La cosa particolare da sottolineare è che ci sta anche ospite in due pezzi, mi pare, Chick Corea, il grande Chick Corea, nonché Kenwood Dennard, un altro grande batterista, e Pat Orpi, tra l'altro, batterista di Mr. Big, che ha fatto tra l'altro un altro disco ancora con un'altra formazione. Diciamo che il peggio è Gilbert, insomma. Comunque questo è un grande disco, Billy Sheehan, John Novello, Dennis Chambers, ve lo consiglio, ve lo consiglio, è molto molto bello, chiaramente da considerare che è un trio, organo, basso e batteria, insomma non c'è chitarra, va bene, meglio ogni tanto qualcosa senza chitarra, ci dà un attimo anche di respiro, Billy Sheehan, il lavoro nuovo.